Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Inter-Genoa 3-0, il risultato giusto, la partita che ci voleva. Sapevamo quanto fossero importanti queste due partite, quella che abbiamo giocato oggi e quella che ci aspetterà giovedì sera, Genoa e Parma. Oggi in casa, poi a Parma, un Parma che sicuramente sarà molto ostico e saprà metterci in difficoltà. Genoa che invece stava, sta vivendo tuttora un ottimo momento di forma. Il Genoa di Ballardini che è sicuramente un Genoa rinnovato, un Genoa più maturo, un Genoa che sa il fatto suo, ma che oggi giustamente si è trovato di fronte ad una grande squadra. Dico grande non tanto perché l'Inter sia grande in generale, perché che sia poi una squadra di livello lo sappiamo, ma perché con la vittoria di oggi secondo me ha dimostrato ancora di più quanto valga davvero. Nel senso che è una partita del genere in cui vai in vantaggio dopo 35 secondi, ma non sei bravo a sufficienza a raddoppiare, a metterla subito in cassaforte. Ti ritrovi fino al settantesimo con questo vantaggio di misura che potrebbe da un momento all'altro cambiare tutto, perché il vantaggio di misura non ti dà certezze. Quindi arriva il pareggio, poi magari prende pure una riponta. Quante ne abbiamo viste in questi anni? Ecco, una situazione del genere non ci vuole niente che poi vada a scaturire delle conseguenze. Per cui siamo stati bravi perché abbiamo resistito, il Genoa non ci ha creato poi particolari problemi e difficoltà, però ha fatto il suo gioco, ha fatto un buon possesso palla, ha tentato anche di avanzare, di entrare nella nostra area di rigore, dove fondamentalmente non è quasi mai entrata. Dopodiché però al settantesimo arriva il raddoppio, poi arriva il 3-0, poi ci vuole anche una grande parata di Perin su un tiro eccezionale di D'Ambrosio, che stava per disegnare un gol meraviglioso, che avrebbe tra l'altro meritato molto. Danilone è nei nostri cuori, è un pezzo di cuore a tutti gli effetti, sta giocando poco ultimamente, questo mi dispiace, ma d'altronde si trova di fronte dei titolari inamovibili. Io credo che un po' di turnover ci vorrebbe ogni tanto, vedremo anche nella gara contro il Parma, gare ravvicinate, poi ci sarà l'Atalanta lunedì sera, però rimane il fatto che, ecco, magari qualche cambietto prima, questo posso dire al mister, altrimenti io alzo le mani, faccio un complimento enorme ad Antonio Conte e lo ringrazio per quello che sta facendo, per questo eccezionale percorso che dell'anno scorso ha intrapreso e che l'Inter come gruppo sta portando avanti, tralasciando i problemi societari che speriamo si possano assolutamente risolvere, pensiamo ai ragazzi che vanno in campo, 3-0, Lukaku dopo 35 secondi su assist di Lautaro, la Lula vince e convince fin da subito, al settantesimo il raddoppio di un grande Matteo Darmian che ha giocato una grande partita quest'oggi su palla di Romelu e Cristiano Ronaldo potrebbe imparare da Big Rom che la palla si passa e non si va a fare i fenomeni da soli, ma peggio per loro, a me mi frega poco, e poi il 3-0 di Alexis Sanchez, il nino maraviglia che trova il gol meritatissimo, sento tanti interisti che lo criticano, che vanno lì a mettere in dubbio le sue qualità per chi non segna, ragazzi gioca 10 minuti ogni due partite, insomma oggi invece entra e segna, gol giustamente convalidato dopo due minuti persi al VAR e Alexis trova questo gol meritatissimo, Alexis è veramente, secondo me, una risorsa importantissima perché avere un giocatore come lui, come riserva, è una cosa eccezionale, ma d'altronde lo è anche avere Vidal come carta da giocare e avere, secondo me ragazzi, un po' tutti i giocatori che abbiamo in panchina, a partire da Radu come secondo portiere, che ovviamente bisognerebbe sperimentare, bisognerebbe vedere effettivamente quanto vale, se è a livello dell'Inter, però io credo che Jono Tradu sia assolutamente un portiere di livello a tutti gli effetti e spero che abbia presto la possibilità per dimostrarlo, poi Samir non si tocca però. Passando per Colaro, Branocchia, D'Ambrosio e Ashley Young, Matteo Darmian, Arturo Vidal, Gagliardini, che insomma anche oggi non ha avuto un approccio così positivo sulla gara, ha sbagliato un po' tutti i palloni che ha toccato, ma non importa, Mattia Svesino che vorrei rivedere presto in campo, Stefano Sensi che purtroppo ha questi problemi fisici, ma spero possa tornare presto, è così Sanchez e Pinamonti che non è assolutamente male, insomma è una squadra assolutamente completa ed è questo, Padelli come terzo, mica male, peccato che il talismano Berni non ci sia più, ma lasciamo perdere, è quello che secondo me ci era mancato anche gli anni scorsi, in cui la rosa più corta e soprattutto meno completa non aveva consentito all'Inter di essere veramente un gruppo importante, di avere dei nomi importanti e di poter ambire a quello a cui dobbiamo assolutamente ambire, ma non perché siamo fuori dalla Champions, non siamo entrati in Europa, la Juve ci ha battuti in semifinale di Coppa, tra l'altro obiettivo secondo me comunque importante perché le semifinali non sono affatto male come risultato della Coppa Italia, poi usciti meritatamente, ma questo è un altro discorso, ci siamo buttati fuori da soli, ecco due regali all'andata e poi il catenaccio juventino come quello che spesso facciamo noi in campionato ci ha fregati. Diventa fondamentale vincere il campionato ma non perché sei fuori da tutto, ma perché è l'anno tuo, perché hai la squadra giusta, perché sì ti puoi riposare di più, perché hai più tempo, perché ti puoi concentrare esclusivamente sul campionato e perché a questo punto, come tanti anti-interisti giustamente, senza fare i gufi, perché poi la realtà, lo dico anch'io, hanno detto in questi giorni, lo scudetto lo può perdere solo l'Inter, nel senso che se poi insomma facciamo i deficienti e lo perdiamo da soli, ok, altrimenti se giochiamo da Inter ci sta anche qualche passo falso, che spero non arrivi e vinciamo le partite che dobbiamo vincere, che sono queste qui, perché sono queste le partite che devi vincere, perché poi i big match, lo sappiamo, l'Inter le gioca da Inter, ma quanti pareggi e sconfitte incredibili abbiamo visto questi anni contro Carpi, Parma, Spal, veramente abbiamo visto delle cose lecce incredibili anche soltanto negli ultimissimi anni, per cui è fondamentale che l'Inter cominci, continui, perché già da un po' questo sta accadendo, a vincere le partite più ostiche. Poi i big match è impensabile che l'Inter, come tutte le grandi squadre, li affronti in maniera timida o non scenda in campo, non accade, è successo qualche volta, ma è molto raro. Quindi sono queste le partite che vanno vinte, stravinte, 3-0, a posto così, grande Inter, Lukaku, Darvian, Sanchez, grande nigno, mi sono piaciuti tutti, oggi non ho nulla da dire a nessuno assolutamente, se ecco, magari Brozovic non mi ha convinto pienamente oggi, perché ha perso dei palloni un po' rischiosi, dove non vanno mai persi i palloni, ma ci sta anche ogni tanto qualche ruruccio da parte di Epic Brozo, che ormai da sei anni è un titolare inamovibile del nostro centrocampo, e non me lo dovete toccare a Brozovic, però sicuramente oggi non ha fatto benissimo, ecco, per il resto è anche un Darmian non sorprendente, perché lo sapevo, però vai a sostituire Asher a Fachimi, non è facile. Alla prossima ovviamente ritroveremo a Kimi, la Lula vince, Antonio Conte vince ancora una volta, complimenti però al Genoa di Ballardini, che ha fatto una buona partita, che soprattutto all'inizio del secondo tempo, nel post partita, il mister del Genoa ha detto che soprattutto nel primo tempo i suoi erano stati meglio in campo, secondo me è meglio nel secondo. Meglio nel secondo abbiamo rischiato, non per le occasioni subite, che non ci sono praticamente state, se non un tiro c'era anche una carica su Samir, ma vabbè, salvato proprio da lui, ma direi più che altro per il fatto che col vantaggio di misura, indubbiamente la gara poi resta aperta e ti vai a fregare da solo, però poi fai il 2-0 con Darmian e la metti in cassaforte con Sanchez, sta al posto così. Ciao a tutti, sempre e comunque Forza Inter!